Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nono vlog del canale Dato che mi sono accorto solo stamattina che a luglio non ho affatto vlog e che avevo promesso di farne uno al mese Devo farlo necessariamente oggi Però avendo poche cose da dire E facendolo anche abbastanza in fretta perché Sto improvvisando in questo momento Quindi se ci sono dei momenti dove ci sarà del silenzio imbarazzante È perché non mi sono preparato quasi nulla a parte due righe di una scaletta minuscola Allora avete letto dal titolo campo scuola Sì starò via al campo scuola una settimana Sinceramente non vedo l'ora che arrivi sabato perché sarà da sabato 2 a sabato 9 agosto Non vedo l'ora perché è un'esperienza che a me piace moltissimo E serve anche un po' per staccarci e per respirare aria nuova Però quindi ovvio che mentre sarò nel campo scuola non potrò fare nessun tipo di video O comunque di sicuro non potrò essere attivo né sul canale né da altre parti Però appena tornerò Usciranno quasi subito nuovi video Il primo video probabilmente che farò appena tornato dal campo scuola Sarà quasi sicuramente il secondo episodio di Vindictus Perché avendo finito il mega tutorial numero 6 di Minecraft E avendo fatto qualche ora fa l'undicesimo episodio della sopravvivenza Vindictus essendo anche abbastanza indietro come serie perché ho fatto solo una puntata Vorrei portarla avanti Per quanto riguarda cover oppure recensioni Sono parecchio indietro a quel lavoro Perché per quanto riguarda le recensioni Non ho minimamente voglia di mettermi lì a scrivere una scaletta O a scrivere o a buzzare Anche solo un discorso da fare in modo da non dover improvvisare Perché una recensione deve essere abbastanza precisa E non si può improvvisare in una recensione Quindi bisogna per forza mettersi lì E cercare informazioni Scriversi qualche appunto Solamente che essendo in vacanza non c'ho minimamente voglia Conto entro fine mese Entro fine estate più che altro Di riuscire a fare almeno una recensione Non so se farò il secondo episodio di giochi da giocare Per chi si ricorda la serie l'ho cominciata più di un anno fa Non l'ho più portata avanti Anche se io sinceramente preferirei Fare la recensione di un album Perché ne ho già due che voglio recensire Solamente che devo mettermi di impegno un giorno per farli Quindi deve venirmi voglia Perché se non ho voglia E faccio un programma abbozzato E fatto male Viene fuori una cosa brutta E a me non va bene Per quanto riguarda le cover invece Sto imparando qualche nuova canzone E anche se non riesco a fare quella che voglio fare io Non riesco a farla bene come voglio insomma Sono sulla buona strada So già che canzone fare Quindi Appena Sarà pronta Uscirà una nuova cover Conto di farla Entro fine agosto Spero Nel frattempo porto avanti tutte quante le serie di gameplay Dato che fortunatamente il computer non ha ancora dato segni di squilibrio Per fortuna E quindi basta Questo mini vlog finisce qui E noi ci vediamo Dopo il campo scuola Ciao a tutti ragazzi A presto